buongiorno ragazzi mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina young boys inter mettiamo in campo in zaghi metti in campo chi ti pare perché alla fine è scontato dire che la differenza dei valori dei calciatori in una partita del genere eh debba venire fuori di cosa ragioni eh loro hanno un campo sintetico bisogna adattarsi soprattutto in maniera veloce nei primi minuti perché passaggi rimbalzi dosaggio della velocità della forza della palla è totalmente diverso dal campo in erba quindi bisogna un attimino stare attenti al campo sintetico o molti giocatori avranno la possibilità di farsi notare dall'allenatore perché questo è un anno in cui scontato dire ragazzi abbiamo bisogno di tutti perché le partite sono tante sono tutte tirate e eh le partite facili non esistono quasi più calcio l'è cambiato ma perché non esistono più le partite facili perché ormai tutti vanno a mille all'ora il calcio a livello fisico atletico è cresciuto molto dall'altro parlando proprio di fisicità e di attreticità eh se te guardi la Juventus che noi poi dovremo andare a affrontare tra qualche giorno eh la Juventus di Tago Motta è una squadra molto particolare che non non sa giocare eh che non sa giocare sotto ritmo quindi se vuoi vincere secondo me uno dei modi per vincere contro la Juventus di Motta che prende pochi gol ma prende pochi gol anche perché i pugili non vengono sanzionati di osa ragioni ehm visto che Motta è incapace di far giocare la propria squadra a basso ritmo eh devi cercare di farli correre a vuoto il più possibile di farli scoppiare questo secondo me è uno dei segreti per vincere eh contro la Juventus in maniera che loro eh vengano abbracciati dalla dalla stanchezza e che incominciano ad avere poca lucidità ehm mentre una delle qualità dell'Inter eh è proprio quella di saper variare la velocità è vero che spesso andiamo forte ma rispetto all'anno scorso abbiamo imparato a dosare l'acceleratore mentre fino all'anno scorso noi andavamo giù a paletta fino a mille anzi fino a due anni fa eh la Juventus è una squadra abbastanza prevedibile cioè secondo me è molto è molto facile capire dove arriverà la palla questo non vuol dire vinceremo quattro a zero perché la palla all'è tonda comunque eh la Juventus secondo me è una squadra tutt'altro che imbattibile quindi veniamo però allo stadio ragazzi al nuovo stadio che ormai sembra cosa fatta le maggiori testate economico finanziarie ne stanno parlando riprendo un articolo eh del sole eh ventiquattro ore neanche a me piace avere lo stadio con il Milan ma allora quando in questo canale due anni fa si diceva che l'Inter sarebbe rimasta al Milan e che sia Inter che Milan stavano bleffando perché l'interesse di tutti e due erano quelle era quello di rimanere a San Siro e ci sono le live registrate con Alessandro G soprattutto ci sono le live registrate dove noi dicevamo che soprattutto l'Inter stava bleffando perché voleva rimanere a San Siro non c'era Rozzano che teneva ma che anche il Milan eh aveva messo in atto una specie di bleffe poi avete visto i terreni lì quanto li hanno pagati perché anche il Milan voleva rimanere a San Siro e purtroppo è quello è successo a quanto pare Sole ventiquattro ore dice delle cose ben eh definite stamattina Inter e Milan costruiranno il nuovo stadio addio a tutti i progetti alternativi quindi sono stati messi da parte tutti i vari progetti alternativi l'Inter che ci aveva l'opzione fino a giugno per Rozzano e soprattutto anche qui un appunto a chi dava già per fatto il nuovo stadio a Rozzano che era sicuro e ci prendeva in giro e poi tanto alla fine le pecore le si montano a maggio come gli arabi vedremo se poi gli arabi acquisiranno l'Inter oppure no quindi due club calcistici nemmeno a me piace ripeto avere lo stadio con il Milan avere un inquilino come il Milan a me non piace ma non piace a nessuno di voi l'ho letto nei messaggi li leggo tutti i messaggi e cerco sempre di rispondere a tutti i due club calcistici hanno scelto l'area di San Siro per il nuovo stadio abbandonando le altre opzioni la manifestazione di interesse sarà presentata a stretto giro quindi eh la strada è segnata e appare per la prima volta dopo tutto questo tempo dopo questa storia tribolata dice il sole ventiquattro ore deciso che eh verrà fatto il nuovo stadio a San Siro ora io sera quello che voglio vedere quello che noterò visto anche a parte il livello di difficoltà degli avversari che sono penultimi nel campionato svizzero mi sembra che abbiano nove punti e l'ultima in classifica ce n'ha sette io voglio vedere però barellino nel role play lo voglio vedere lì voglio vedere come si comporta voglio vedere come gestisce la partita e come gestisce in novanta minuti davanti Arnautovic Taremi eh ragazzi questi siamo purtroppo e questi abbiamo e questi dobbiamo sperare facciano bene mh dovrebbe giocare Carlos Augusto Danfris sono contento per Danfris perché secondo me Danfris fino a che non sistemerà il contratto difficilmente lo vedremo titolare inamovibile anche perché Matteo Darmian è tanto di cappello Matteo tanto di cappello ma secondo me ormai dove puoi darci una mano ma non dipende da te ovviamente eh è solo il ruolo di braccetto perché non hai più l'atleticità la resistenza e la forza per fare il tutta fascia quindi occhio al capo sintetico occhio ai primi minuti occhio ai ribazi occhio ai passaggi occhio ai lanci bisogna prendere subito confidenza non in campo eh sulla carta non c'è partita ma non sempre nel calcio vicino alla scuola più forte ciao Inter